E' fuori uso da una settimana la TAC dell'ospedale Sant'Elie e secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria dovrebbe riprendere a funzionare venerdì. In realtà le TAC dell'ospedale sono due ed entrambe al momento fuori uso. I macchinari pari abbiano avuto lo stesso danno contemporaneamente alla rottura di un tubo radiologico che è stato ordinato dalla casa produttrice dell'Appecchio. Tra l'altro tra i più avanzati in commercio con una capacità di penetrazione di sostanza 4 stile. E' pare che arriverà dalla Francia entro fine settimana per essere montato e mettere a reggiva nuovamente il servizio. La problematica che ha investito gli apparecchi tra i più importanti della diagnostica dell'ospedale ha comportato notevoli disagi sia ai pazienti ricoverati sia a quelli che giungono da tutta la provincia all'ospedale Sant'Elia per le prestazioni esterne. Nel primo caso i pazienti sono stati accompagnati a San Cataldo con l'ambulanza ed invece nel secondo caso hanno dovuto optare per una prestazione privata a pagamento. Non si contano le lamentele degli utenti che hanno appreso la notizia arrivati all'ospedale o dal centro unico di prenotazione, orvero dal CUP. Intanto altre 5 TAC dovrebbero essere in arrivo, le gare sono già state espletate. Si attende che nella piattaforma che viene utilizzata per gli acquisti, secondo la legge anticorruzione, vengano messe in vendita le TAC di 64 stile, ovvero tra le più moderne in commercio.